Lei è stato il primo avvocato, se non sbaglio, ad attaccare la nuova banca Etruria? Questo non lo so se sono stato il primo, ma sicuramente non sarò l'ultimo. Abbiamo incardinato un'azione, anzi per la verità sono due azioni civili, di anzi al Tribunale di Grosseto, una per 103 obbligazionisti subordinate, l'altra per una decina di obbligazionisti subordinati. Il controvalore delle obbligazioni richiesto è circa 3 milioni. In realtà noi non chiediamo il rimborso delle obbligazioni subordinate alla nuova banca, questo il decreto ce lo impedisce, chiediamo il risarcimento dei danni subiti nel corso dell'attività bancaria, cioè nella tipica attività di intermediazione finanziaria, attività nella quale è subentrata la nuova banca, trattandosi di attività aziendale bancaria. Quindi non c'è motivo per il quale la nuova banca si possa esimersi dal risarcire, se esistenti, dei danni subiti dagli obbligazionisti nell'ambito dell'esecuzione del contratto contotitoli. Oppure, in qualsiasi altro modo, ad esempio, se uno fosse scivolato nei locali della vecchia banca, perché non fare causa alla nuova banca, visto che è comunque una responsabilità aziendale, quindi oggetto di trasferimento, anzi di cessione di azienda bancaria. Sono perseguibili, secondo lei, anche i dipendenti, gli impiegati, i direttori che hanno... Questo va visto caso per caso molto scrupolosamente e per il momento non l'ho fatto in via generale, l'ho fatto in alcuni casi in via penale, dove c'era prova e sono state fornite veramente informazioni macroscopicamente errate e false. A mio avviso, in un caso, c'è la prova dell'artifizio del raggiro commesso dal dipendente.